Salve ragazzi bentornati in questo nuovo video Voglio una squadra dinamica, intraprendente e aggressiva Che emozioni la gente Queste sono le prime parole di Mr. Bruno Caneo alla conferenza stampa Ho finito di vedere il video pochi minuti fa Gli hanno fatto molte domande a lui e al direttore Mirabelli Che erano loro due presenti appunto in questa conferenza stampa di presentazione Hanno parlato di mercato più o meno in realtà Perché hanno fatto molte domande ma loro quasi sempre hanno detto Hanno rifiutato di parlarne dicendo Non possiamo parlare dei singoli nostri Perché siamo in una fase delicata Che dobbiamo vedere appunto di ringiovanire la squadra E quindi mi sembra ingiusto parlare dei singoli nostri Così ha detto Massimiliano Mirabelli L'unica notizia praticamente certa che ha voluto dire Che comunque hanno già scritto i giornalisti È il fatto dello scambio con il Pescara per De Marchi De Marchi a noi e della Latta agli Abruzzesi Poi gli hanno detto questa indiscrezione che lui non ha voluto confermare Perché comunque appunto ha detto L'unica che confermo è quella di scambio della Latta De Marchi E hanno parlato di uno scambio Danti-Sissé Sissé alla Virtus Verona e Danti a noi Però lui non ha voluto confermare perché ha detto Mirabelli Ha detto ci sono mille ipotesi Che magari non sappiamo neanche come metterle in piede al momento Quindi è inutile parlarne Il mercato è lungo È lunghissimo Tanto che inizia praticamente domani Visto che oggi è il 30 giugno E quindi ci sarà tempo per parlare di eventuali acquisti Di eventuali cessioni Quando saranno confermate ne parleremo Poi hanno chiesto giustamente a chi era molto curioso di sapere Che modulo userà il Mister Userà un 343 di base Poi però gli hanno chiesto Ma proprio un 343 con un tridente davanti Quattro centrocampisti, due esterni, due mezzali Lui ha detto no Voglio un attacco più stretto Voglio un 3-4-2-1 Quindi praticamente due seconde punte Con la punta davanti A supporto appunto Le due punte a supporto della prima punta E comunque è confermata quindi la difesa a tre E ha detto anche Che ci sono già un paio di elementi Per quanto riguarda la difesa Che tranquillamente lui ci punta E ha anche 3-4 elementi a centrocampo Che ha detto che per lui va benissimo Che ci siano E che puntano su di loro Ma non hanno voluto fare chissà quanti nomi Non hanno voluto sbilanciarsi a dire nomi Anche perché appunto siamo un cantiere aperto Hanno aggiunto anche questo E il fatto che appunto ci sono molti giocatori in scadenza Che non verranno confermati Ho letto che in attacco per esempio Difficile la riconferma di Santini E di Nicastro Infatti si parlava Settimane fa di Rolfini Della Ancona Si parla di Danti Della Virtus Verona Si parla di De Marchi Del Pescara Comunque si parla di tanti giocatori E poi gli hanno chiesto Ma dalla Turris Lei mister Prenderà qualche giocatore Che magari ha fatto bene quest'anno Uno su tutti i nomi Che è uscito fuori È Vito Leonetti E io quando ho sentito questo nome ho pensato Ma Vito Leonetti Quello che anni fa giocava nel Bari Poi sono andato a vedere su Transfermart Ed è proprio lui È quel Vito Leonetti Io sinceramente Pensavo fosse anche più vecchio È a 28 anni Ha fatto 16 gol quest'anno con la Turris Per chi non lo sapesse È Torre del Greco Provincia di Napoli Comunque 15 gol in campionato Uno in Coppa Italia Serie C Io sinceramente Un bel attaccante così Lo prenderei Che poi il mister lo conosce Poi si vedrà Vedremo appunto più avanti Vi terrò comunque aggiornati Passo passo Ogni volta che esce qualche notizia Magari ufficiale Più che altro Perché altrimenti potrei fare un video Di tutte le voci che si sentono Ma magari Neanche una di queste Poi si realizza Se volete un video del genere Ragazzi Alzo le mani Lo faccio volentieri Io aspetto più che altro Delle ufficialità come ieri Purtroppo che è ufficiale L'addio di Cosimo Chiricò Al momento questi sono i nomi Non ho sentito altri nomi Si parlava di Jelenic Via Ma poi Come ho detto ieri in un video Si è parlato Che probabilmente arriverà il rinnovo Addirittura Jelenic Sarebbe andato al Catanzaro A sostituire Van de Putt Che è ritornato al Vicenza Poi però Appunto al momento Non si fa nulla Sembra Più vicino Alla permanenza In bianco scudato Jelenic Piuttosto che Una prodo Nella squadra calabrese Poi gli hanno chiesto appunto Quale stile Vorrebbe Se vuole Essere più o meno Come ha fatto Nelle scorse esperienze E lui ha risposto Di sì Che vuole essere Uno propositivo Offensivo Che vuole creare gioco Poi gli hanno chiesto Anche Se Si sta ridimensionando Il fatto Che In una vecchia intervista Aveva detto Che non gli piace Nemmeno Quasi Venire in conferenza stampa Dopo una vittoria Diciamo così Tra virgolette Di culo Come direbbe Alleghe A corto muso Lui ha detto Così Per dire Che Non gli piace Quando Non riesce A capire bene E Come Come spiegare Non riesce a capire bene Quando Quando Ci sono le cose Da esaminare Durante una vittoria Una sconfitta Un pareggio Se è di culo E E Più difficile Esaminare Cosa migliorare In allenamento Ecco Scusatemi Mi ero un attimo Impappinato E Quindi Comunque Lui cercherà Sì Il bel gioco Ma comunque Secondo me Alla fine L'essenziale È vincere Ed è quello Che noi Cerchiamo Cerchiamo Ovviamente Di puntare Alla serie B Non ci dobbiamo Nascondere Anche se hanno detto Il ridimensionamento Per quanto riguarda I giocatori E anche Per quanto riguarda Le aspettative Che non siamo I favoriti Che però Secondo me Vogliamo puntare Assolutamente Alla serie B Questo Non c'è dubbio Io spero Che Caneo Ci porti Alla serie B Lo spero Davvero tanto Sarò io Magari Troppo Fiducioso Non lo so Non ho mai Visto Tante partite Di questo Allenatore Né della Tourist Né delle Percedenti Esperienze Però Ero molto Conioso Di sentire Le sue parole Ogni settimana Sentirò Le sue parole E magari Dirò la mia Sulle parole Ora vediamo Tra le cessioni Rinnovi Le voci Che si susseguono Cosa arriverà Ha parlato E ha parlato Anche Di abbassare L'età media Mirabelli Quindi di puntare Anche a qualche Giovane Spero Sia Giovane Proprio Anche Molto Promettente Gli hanno anche Chiesto Che vogliono Vedere I giornalisti I tifosi Comunque Vogliono vedere Una squadra Che corra Che corra E che corra Lui ha detto Facciamo un po' meno Che corra Ma che aggredisca Che attacca Insomma Un profilo Molto Propositivo E offensivo Come ho detto Mi sembra Almeno dalle parole Poi vedremo Nei fatti Come Come si svilupperà Il tutto Insomma Io Credo di aver Detto più o meno Tutto quello Che hanno detto Ho riassunto In nove minuti Una Una conferenza stampa Di una mezz'oretta Abbondante Comunque La potete trovare Tranquillamente Sul sito ufficiale Sul canale youtube Del padova Vi consiglio Di ascoltarla Così vi fate Una vostra idea Io ho detto La mia Fatemi sapere La vostra Nei commenti Iscrivetevi Al canale Mettete tanti Mi piace Attivate la campanellina Così rimanete Aggiornati Per prossimi video Che non si sa mai Che arrivi un nuovo acquisto E sono pronto qui A portare il video A riguardo Per ora È tutto Ragazzi Forza padova E niente Al prossimo video Beatosi Così